Quando le è stata diagnosticata la malattia, la signora Caterina aveva 65 anni e aveva appena festeggiato i 50 di matrimonio. Da allora sono passati tre anni e la SLA, sclerosi laterale amniotrofica, l'ha ridotta ad uno stato di totale immobilità, dipendente dalle macchine e dalle cure di chi le sta accanto, a cominciare dal marito Pantaleo. Un inferno quotidiano, dove alle limitazioni causate dalla SLA si aggiungono gli spazi limitati e angusti di un bivani del quartiere Libertà di Bari. Un piano rialzato senza balconi con poca luce e poca aria. Dall'inizio dell'anno il contributo garantito dall'assessorato al welfare della regione Puglia pari a 500 euro non viene erogato. Questa mancata erogazione a lei, alla sua famiglia, cosa comporta? Comporta delle spese che abbiamo, luce, gas, acqua, a non finire i macchinari che abbiamo, i medicini che compriamo, che non passano alla ASL, non passano alla mutua. Ci sono tante cose. Lei è pensionato? Sì. Le posso chiedere con quanto vive di pensione? 1.260. E quanto spende per seguire, mantenere le cure della sua moglie? Tra badante, osse e compagnia bella se ne vanno tutti. Pantaleo si è recato più volte negli uffici della ASL, ma nessuno riesce a dargli risposte soddisfacenti. Pare che i vari distretti stiano verificando quali e quanti siano i pazienti che anche per quest'anno hanno diritto al contributo. Ma per il signor Pantaleo e per un'altra cinquantina di pazienti di Bari e provincia, la situazione è davvero critica. Io vado da solo sto, vedi? Io vado stamattina qui dentro da stamattina, sento uscire fuori. Questa è la mia vita. Intanto dal distretto est dell'ASL di Bari arriva il chiarimento sui soldi. L'assegno di 500 euro mensili che l'ASL destina ai soggetti affetti da SLA, dice Giuseppe De Rosa, responsabile del distretto, viene finanziato dalla Regione Puglia, più precisamente dall'assessorato alle politiche per la promozione della salute. L'ultima assegnazione, continua De Rosa, risale all'agosto del 2011. Non appena saranno accreditati i fondi relativi al 2012, assicura, procederemo con i pagamenti.